per il nostro obiettivo e non guardiamo sicuramente tanto a loro anche se dobbiamo farlo e domani sicuramente lo faremo ma il nostro obiettivo è quello di vincere la partita indipendentemente da come loro si presenteranno e quindi a livello di atteggiamento dobbiamo avere un atteggiamento molto aggressivo con grande furore, dobbiamo far capire alla Varese che domani c'è poco da fare e quindi ripeto loro avranno magari avuto una scossa ma magari i punti li faranno dalla prossima in poi. Dobbiamo giocare come se fosse una finale perché domani per noi è una finale, una finale sotto tutti i punti di vista, domani dovremo andare in campo e massacrare naturalmente sportivamente il Varese stop. Sì abbiamo valutato un po' di cose, onestamente abbiamo lavorato su alcune situazioni che loro possono venire a fare, è probabile ma non certo, non sicuro che loro giochino così però è una possibilità, una possibilità quindi abbiamo lavorato anche su questo, anche su altre cose ma ripeto anche su questo. Stefano è un allenatore bravo che sa anche come giochiamo noi, ci conosce bene quindi ha sicuramente proposto delle contromisure nei nostri confronti alla squadra e però di contro anche noi lo conosciamo, anche io lo conosco quindi sarà una partita anche tattica però in campo ci vanno i ragazzi, chi avrà più voglia, chi avrà più determinazione, chi avrà più spirito di sacrificio e chi correrà di più probabilmente vincerà la partita. Probabilmente dico perché io metto sempre una percentuale che è anche episodica e lo sappiamo soprattutto in partite equilibrate gli episodi a volte ti fanno vincere o perdere la partita. È bella contro una squadra che sta viaggiando benissimo, che è una delle note liete delle sorprese di di questo campionato. Stanno bruciando le tappe da quando erano in Serie D, questo merito di una società e di uno staff tecnico che sa quello che vuole e riesce ad ottenerlo. Però non voglio andare a Trapani a fare la vittima sacrificale, non voglio che la squadra sia messa sull'altare e essere sacrificata al mio amico Boscaglia. Andremo giù a giocarci la nostra partita, cercare di rendergli pampe e focaccia ogni volta che ce ne sarà la possibilità perché la necessità è quella di ritornare a fare punti al di là dell'avversario che si vada ad affrontare. Avere tre partite in una settimana contro squadre che stanno andando così bene non è certamente semplice, però da un certo punto di vista è anche più stimolante. è ovvio che l'attenzione, i richiami quando c'è un cambio tecnico si alzano da parte dei giocatori, ma aver dover affrontare squadre come Trapani, Empoli e Palermo credo che questo possa alzare ancora di più al di là degli stimoli verbali che possa portare il tecnico. Io sono molto contento di come la squadra si è allenata in questi giorni, mi hanno mandato dei segnali molto positivi. L'unica cosa che mi dispiace è che ci sono delle defezioni dovute a influenze, virus intestinali e solamente un problema fisico.